Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 17 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Malmostosi e ne avete ben donde. Strano vedervi così immusoniti, voi che trovate giustificazioni per tutto, ma sotto il tiro incrociato di Saturno e Venere nel segno, entrambi in conflitto con la luna in quadratura, anche la vostra pazienza oggi ha un limite, ma è soprattutto la fiducia nel genere umano a perdere colpi. In famiglia vi sentite incompresi, distanti anni luce dalla mentalità di tutti gli altri, quasi un trovatello. Vi sbagliate, basterebbe un'occhiata allo specchio per convincervi che appartenete proprio alla stessa genia. Ma oggi con Plutone sospettoso in dodicesima casa siete in vena di piangervi addosso, facendovi film dalla trama improbabile, alla quale siete gli unici a credere. Per consolarvi un acquisto sfizioso, una cena elegante, una piccola vincita, come recita il proverbio aiutati che il ciel ti aiuta. Litigie e instabilità nelle coppie, alcuni partner soffrono dell'indifferenza dell'altro e potrebbero decidere di mollare. Possibili delusioni in amore anche a causa di progetti naufragati. Potenziali chiarimenti in arrivo che potrebbero ribaltare situazioni e ripresitinarne altre. Abbiate più fiducia in voi stessi e affronatteli con decisione e fermezza. Lotterai però contro i tuoi amici. Una piccola delusione nel lavoro. L'amore si lascia desiderare. Cercate il dialogo con l'altro per chiarire la situazione altrimenti le acque si confonderanno ancora di più. Novità per alcuni di voi che vi sorprenderanno, riguarderanno per alcuni il lato sentimentale, per altri il lato lavorativo, per altri ancora il fronte delle amicizie. In ogni caso niente timore anche se alcune di questo vi potranno creare delle ansie che si riveleranno assolutamente ingiustificate. Oggi avete ottime possibilità di risolvere una vecchia questione che ormai vi sta pesando oltremisura. Dovrete però mettercela tutto e capire a volle le opportunità per farlo. Chi è in commercio faccia particolare attenzione ad eventuali controlli, a volte una piccola distrazione può costare caro. Avrete bisogno di riposo, rilassatevi e condetevi una vacanza o, in alternativa, una serata spensierata lontano dai vostri problemi. Non mancheranno momenti di tensione nella coppia, tra parenti o amici, dovrete imparare a osare al massimo la vostra diplomazia e a portare pazienza. Il verde ti donerà in modo particolare. Gli amici saranno importanti. Sarai l'anima delle feste. Buon umore. La vostra ideale madrina, la luna, è oggi dissonante, ma nulla di grave, il vostro stato di salute è eccellente, solo dovreste avere maggiore attenzione a ossa e muscolatura se frequentate abitualmente palestre e altri luoghi per allenare il vostro fisico in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 15 del mese di marzo. Coppia Venere Saturno nel vostro segno, due caratteri diametralmente opposti, lei tenera, affettuosa, romantica, creativa, lui filosofico, pessimista, freddo, solitario. Difficile farli coesistere e andare d'accordo, l'amore perde qualche sfumatura, la meditazione si distrae un po' guardando fuori dalla finestra. Oggi tutto non potete avere, anche perché la luna in gemelli vi rema contro inquadratura, annunciandovi beghe familiari, piccoli guasti o l'arrivo imprevisto di parenti che avreste desiderato non incontrare. Amore ed Eros. Se un problemino oggi deve esserci vi deriva immancabilmente dalla suocera, che vi invita a cena convinta di farvi un favore, mentre voi alzate gli occhi al cielo pensando anche stavolta. Pensiero positivo, cucina divinamente e poi se di tanto in tanto qualche ruggine c'è non può essere solo colpa sua, anche voi ci mettete del vostro, dicendo o almeno pensando qualcosa di sbagliato. Gratificati dai due pianeti vostri nomi tutelari, Giove e Venere, in congiunzione nel vostro segno, vi godete una giornata all'insegna di un inserimento affettivo particolarmente armonico nell'ambiente circostante. Brillate di una luce speciale, vi attivate a giocare le carte migliori del vostro carattere, che sono quelle di una simpatia coinvolgente e tenera, di una splendida capacità di creare atmosfere rilassanti e congeniali alle persone a cui volete bene. E la giornata è di fusione erotica con la vostra dolce metà, come decreta Marte nel vostro segno, a donarvi un afflato romantico di cui può beneficiare completamente chi si relaziona con voi. Ne sentite maggiormente questi influssi se appartenete alla prima decade. Lavoro e denaro? Serissimi, che vi piaccia e no questa sarà una domenica casalinga a occuparvi di problemi impellenti, guasti preoccupanti o semplicemente a meditare, mentre zappate il giardino o ascoltate musica d'ambiente, magari a gambe incrociate sul vostro tappetino yoga. Se c'è qualcosa che vi preoccupa, prima di parlarne alla famiglia, trascinandola nel vostro malumore, provate a sfangarvela da soli. Se poi non si tratta di ansia di natura finanziaria, esaurita la vostra giornata penitenziale, vi ritagliate qualche diversivo serale, da una cena fuori a un cinema, purché a prezzo contenuto. Con saggezza riuscirete a farvi carico di quel che vi compete, e soltanto di quello, correttamente con senso del dovere professionale. Sarà la vostra preveggenza a farvi scansare opportunamente una incombenza che vi poteva essere affibbiata in ufficio. Benessere. Stato infiammatorio alla gola, colpa del vento marzolino e dell'abbigliamento troppo leggero che vi ostinate a indossare anticipato i tempi, vanitosi, ma la tosse persistente non è charmant. Denaro. La luna in gemelli può indurvi a compiere spese un po' troppo spensierate. Datevi un limite di equilibrio, in specie al modo se siete nati dal 20 febbraio al 2 di marzo. Per lei, inutile continuare a scornarvi con mammina, due generazioni a confronti, due diversi modi di pensare, di vestire, di mangiare, di vivere. Ma questo non significa che non vi vogliate bene e l'affetto, è risaputo, è uno splendido collante. Per lui, anche se siete di cattivo umore c'è sempre la scappatoia giusta e per voi si chiama bricolage, giardinaggio, cucina. Evitate le lucubrazioni filosofiche, però, oggi agiscono negativamente sul vostro già acuto pessimismo, avete bisogno di soluzioni e speranze, non di tristi conferme. Colore delle emozioni, senape. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.